Alla fine quando ti sei buttato in aria sull'ultima azione e si parla di un fallo di mano, l'hai toccata questa palla o no? Non è il primo che me lo dici, però non me ne sono accorto, guardo le immagini e poi ti dico, non lo so, giuro che non me ne sono accorto. Furia agonistica? No, perché comunque fa spallate così, non mi sono accorto, io pensavo ad essere presa difensore, comunque intendo il primo cross, il cross dove è nato il gol. Grazie a tutti.